ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi fiera mostra scambio automoto d'epoca di novegoro vi farò fare un giretto in questa questa appunto mostra qua si possono trovare molte cose per chi ama le moto d'epoca e non solo infatti si possono trovare ricambi i cambi accessori vari utensili per appunto riparare le proprie moto e poi si possono trovare delle basi da cui partire per effettuare un restauro oppure si possono trovare anche moto già restaurate comunque adesso vi farò fare un giro oltre a questo comunque si possono si può trovare abbigliamento usato e non a buon prezzo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questo giro hanno presentato qua in Marfio Laverda con tutti i modelli che hanno presentato negli anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.